Il mondo sta andando in pezzi. Le bandiere imperiali imperversano nella galassia. Possiamo fidarci se ti liberiamo? Cerchiamo di farla finita, avanti. Abbiamo una missione per te. Il test di un'importante arma è imminente. Dobbiamo sapere come distruggerla. Se lo state facendo davvero, voglio aiutarvi. Bene. Bene. Recruto gente per la ribellione da tanto tempo. Ci hanno distrutto la casa! Combatto l'impero ora. Non temo niente. Tutto è come la forza vuole. Il capitano dice che sei un'amica. Io non ti ucciderò. Grazie. Non c'è molto tempo. Ogni giorno si fanno più forti. Abbiamo un 97,6% di chance di fallimento. Lo fa a fin di bene. È la nostra occasione di fare la differenza. Sei con me? Fino in fondo. No. 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 Grazie.